Previsioni per sabato 12 febbraio. Cielo al mattino nuvoloso, molto nuvoloso, dal pomeriggio schiarite a partire dai settori settentrionali. Al mattino piovaschi o deboli rovesci sparsi sui settori settentrionali ed interni. Temperature minime in aumento, massime in calo, venti lungo la fascia costiera di vento moderato. Mare molto mosso al mattino, mosso al pomeriggio.